Una buona giornata a tutti ed eccoci con le previsioni per venerdì 12 agosto con l'alta pressione di nuovo protagonista sul Mediterraneo dove il tempo tornerà stabile e solleggiato, tanto sole anche sull'Italia con temperature in nuovo aumento e valori pomeridiani diffusalmente superiori ai 30 gradi. Ecco la grafica che ci mostra i cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio italiano, da segnalare qualche velatura in più tra Toscana e Nord Italia con addensamenti però solo tra Alpi e Prealpi dove non attendiamo tuttavia precipitazioni rilevanti. Le più ampie schiarite al nord interesseranno la Valpadana centro-orientale dove farà anche piuttosto caldo con oltre 31-32 gradi tra Basso Veneto e Romagna. Al centro sempre sole su tutte le regioni salvo velature in Toscana con temperature oltre i 30 gradi come potete vedere dai soli arancioni diffusi tra Lazio ed Abruzzo e basse marche. Sempre sole anche al sud e tra le due isole maggiori dove attendiamo al massimo qualche velatura o leggera foschia al mattino. Venti settentrionali su quasi tutto il territorio con qualche isolato residuo rinforzo sul basso Ionio. Vediamo ora le temperature minime che resteranno abbastanza miti su tutto il paese ma ancora leggermente inferiori alla media stagionale. Le massime continueranno la loro risalita con oltre 31 gradi in Valpadana fino a 31-32 anche nelle zone interne del centro e picchi intorno ai 32-33 al sud e sulle due isole maggiori. Un saluto a voi da Andrea Falcinelli, vi aspetto alle prossime News Meter.